ciao a tutti benvenuti in questo nuovo video molti mi avevano chiesto in privato di consigliare un prodotto del genere alla fine ho fatto un po di ricerche ne ho scelto uno e l'ho preso perché mi ispirava e aveva delle ottime recensioni perché alla fine facciamo tutto così oltre a guardare le recensioni oggi avrete il mio feedback diretto su un prodotto che magari in tanti sottovalutano non sanno magari neanche dell'esistenza ma vi dico che è una cosa proposta al giusto prezzo che ha molteplici funzioni e che ognuno dovrebbe avere in auto nel furgone nel camion insomma ad averlo sempre dietro che cos'è oggi vi parlo di questo bestione questo barilotto questa bomba di plastica che è un avviatore di emergenza ma è anche una power bank fa un sacco di cose ed è molto molto figo lo rimetto nella scatola lo spacchettiamo e lo guardiamo un po meglio ma prima di andare avanti vi ricordo di iscrivervi al canale e attivare tutte le notifiche e di seguirmi su instagram massidattoli perché metto sempre tutti i post dei video che sto preparando e dei contenuti che ho appena pubblicato sul canale eccolo qua jump starter avviatore d'emergenza 12 volt corrente di picco 2000 ampere con la funzione boost 59.2 wattora e una batteria interna da 16.000 miliampere idoneo per consentire l'avviamento di motori a benzina fino 8 litri e diesel fino a 6 litri possiamo usarlo per avviare barche moto auto camper camion tutto quello che riusciamo ad alimentare un prodotto che comunque ha tutte le protezioni del caso quindi protezione per surriscaldamento protezione per polarità sbagliata protezione per ricarica inversa quindi non farà mai lui da assorbimento sui due morsetti protezione al cortocircuito protezione da sovracorrente tutto quello che serve niente facciamo capirlo dai io solo per questo vi direi comprate lui scherzi a parte sapete come mi piacciono i prodotti che vengono equipaggiati con una borsa da trasporto ben fatta perché tante volte vendono dei dispositivi per portatili ma non hanno nulla per portarli guardate che bella questa borsa semi rigida marchiata con maniglia e doppia cerniera dentro cosa abbiamo abbiamo il dispositivo alloggiato in questa parte termo formata sagomata qui una comoda tasca molto ampia per portare tutto quello che serve manuale di istruzioni inglese tedesco e giapponese cavo di ricarica type c da un metro tipo a type c questa è la parte che si connette all'avviatore per fare appunto l'avviamento notate subito che il cavo positivo è un po più lungo per consentire di arrivare correttamente ai poli parliamo subito delle pinze perché hanno delle chicche niente male intanto la plastica è molto molto robusta la molla è molto forte tutta la parte della contatteria in rame ben rifinita e ben dimensionata questo particolare non ce l'hanno tutte le pinze perché dove arriva il cavo viene crimpato su metà della pinza e con un cavetto all'interno viene portato anche all'altra metà questa chicca non ce l'hanno tutte le pinze cavo che non è spessissimo ma è lungo 20 centimetri stessa finitura stessi particolari per la pinza del negativo quella nera questa è la parte che va connessa all'avviatore presenta un connettore con un'unica posizione d'ingresso non si può sbagliare led reverse vuol dire che abbiamo collegato i poli al contrario led correct vuol dire che sono collegati giusti è un pulsante che si chiama boost come funziona ve lo spiego velocemente voi collegate i morsetti alla batteria accendete il dispositivo il led reverse non si deve accendere perché se no sono al contrario si deve accendere il led correct dopodiché se è una batteria mediamente giù potrebbe già riuscire a fare l'avviamento altrimenti si preme il pulsante boost che dà la massima corrente disponibile fino a 2000 ampere entro 30 secondi dalla pressione del tasto boost bisogna provare a fare l'avviamento se male auguratamente la batteria è proprio morta potrebbe non accendersi nessun led quindi se siete sicuri di aver messo il positivo e il negativo giusti premete il boost entro 30 secondi provate a fare l'avviamento dai dati chi ha dovrebbe farcela sempre questo particolare anche ben rifinito e dietro c'è comunque tutta la spiegazione in inglese di quello che vi ho appena detto veniamo al dispositivo che è proprio bello ragazzi c'è tutta questa parte esterna di protezione gommata ma gomma dura molto molto raggede tutte le parti in plastica sono grigie color titanio grigio scuro molto bello il retro con tutte queste viti a vista molto molto raggede anche loro tutte le caratteristiche del caso e la parte frontale dove abbiamo le scritte pulsante di accensione led per indicare lo stato di carica quindi accendiamo dispositivo ci dà lo stato di carica perché l'ho già caricato in fase di carica i led lampeggiano fin quando non si fermano se lo teniamo premuto si accende questa torcia molto potente da 300 lumen ok sono qua dentro nel garage completamente buio vediamo un po questa torcia com'è 300 lumen non fanno giorno in un campo di pallone ma vi consentono in caso di emergenza in caso di situazione dove rimanete in panne di avere comunque un'ottima luminosità e per molto molto tempo luce che una volta accesa ripremendo il pulsante di alimentazione effettua un lampeggio veloce continuo se lo premiamo ancora una volta effettuerà lampeggio con lentezza alternata tipico della segnalazione di emergenza per spegnere basta di nuovo premere il pulsante d'accensione e con comandi e segnalazioni abbiamo finito diamo un'occhiata alle porte quindi lato sinistro porta type c per la ricarica lato destro connettore per uscire con un comunissimo jack di alimentazione uscita 14 16 volt che si attiva quando accendete la luce ma non sono riuscito a trovare un'utilità per questa uscita essendo una tensione leggermente alta da 14 16 volte quindi non compratelo per usarlo come fonte di alimentazione a 12 ecco tenetene conto per tutte le altre caratteristiche test che ora faremo tutta la parte delle connessioni nella parte alta dove abbiamo le usb tipo a normale da 2 ampere e quella blu da 3 ampere e qui la porta dove dobbiamo connettere il modulo per l'avviamento vedete quando connettiamo la batteria in modo corretto si accende la luce verde se connettiamo la batteria al contrario si accende la luce rossa ed emette anche un avviso sonoro con le porte usb possiamo tranquillamente caricare il cellulare caricarne magari due senza nessun problema vi ricordo che abbiamo una riserva di energia di 16 mila mili ampere ovviamente con l'uscita da 3 ampere riusciamo a ricaricare tutto quello che può essere portati di tablet eccetera quando non viene utilizzata o non sente qualcosa che ciuccia corrente si spegne automaticamente ed è un bel giocattolino pesa 723 grammi dunque parliamo subito di prezzi di solito lo facciamo alla fine costa su amazon 119 euro vi arriva in tempi velocissimi un prodotto prime vale questi soldi ve lo dico ancora prima di farvelo vedere in azione vi dico di sì perché innanzitutto è un power bank che può sempre servire e soprattutto abbiamo visto può caricare diverse cose fa anche da torcia che in un contesto di emergenza da tenere lì ci sta a fagiolo ed è una di quelle cose che secondo me dovrebbero esserci in tutte le auto alla pari quasi del kit di ruota di scorta riparazione perché può capitare a chiunque a me è capitato non una volta ma non so quante di rimanere con la batteria a piedi allora cosa succede arriva quello coi cavi riesce a fare l'avviamento e riesci almeno ad arrivare alla prima officina al primo meccanico al primo elettrauto se tu hai questo in macchina ogni tanto gli dai una caricata lo tieni sotto controllo se ti capita sei da solo non hai nessuno da chiamare basta che prendi lui dal cassettino avvii il motore e vai fino dove devi andare magari mentre viaggi lo rimetti in carica perché non si sa mai che ti devi fermare per forza e sei punto da capo però molto molto utile non ha problemi di temperatura perché comunque è garantito in funzionamento da meno 10 a più 40 che non sono proprio condizioni estreme però andare sotto il meno 10 in italia non è così frequente andare sopra il 40 a temperatura ambiente neanche quindi le potenzialità per essere versatile tutto l'anno ci sono adesso facciamo una prova di avviamento perché alla fine abbiamo fatto tutto ma non abbiamo ancora visto se ce la fa a far partire qualcosa che non parte ok non ho un 5000 vuoto aspirato per provare a fare un avviamento ma ho il mio camper che a stare fermo si scarica costantemente la batteria non c'è occasione migliore questo è un 2005 turbo diesel che insomma se parte questo se parte se parte questo va già bene dunque io qui sotto un voltmetro non so se si vede ma vedete che comunque come tensione mi segna 12 2 non è neanche troppo giù però se vado a fare quadro quadro che già un po moscio vedete che adesso mi segna 11 3 ma se tento di fare avviamento va giù completamente e non da segni di vita ok andiamo a collegare busta vediamo se parte lo accenniamo mi dà già spia verde per sicurezza schiacciamo il pulsante bust ok 30 secondi andiamo a far avviamento vediamo un po una bomba ragazzi fine del video bel prodottino mi piace molto come è fatto mi è piaciuta un sacco la custodia di trasporto anche se un piccolo dettaglio ma per me è importante funzionare funziona fa quello che deve fare bisogna capire poi questi prodotti che comunque non costano tanto non sono professionali quanti anni hanno di funzionamento non lo so però da qua a 6 7 anni se funziona e devo rispendere 120 euro per avere una garanzia sempre dietro per me ci sta se vi è piaciuto il video un bel like iscrivetevi al canale per chi non mi conosce sempre sulla tecnologia parliamo del mio lavoro parliamo di fotovoltaici parliamo di un sacco di cose di domotica di sonoff tutte cose che in alcuni settori possono interessare a qualcuno in alcuni no io cerco di darvi informazioni aiuti e feedback personali di quello che piace a me ci vediamo al prossimo video alla prossima diretta del giovedì sera ciao da massidattoli